Nuovo episodio della FL al massimo. Oggi tentiamo una parentesi letteraria, tentando un paragone ardito tra l'Italia e il rione dove crescono i personaggi dell'amica geniale, un quartiere di Napoli. Premetto di non avere nessuna velleità da critico e vorrei solo approfittare della notorietà che la serie TV Rai sta dando ai bei romanzi di Elena Ferrante, molto famosi all'estero, per qualche riflessione sul passato e presente del nostro paese, sul successo sul declino e su alcuni fattori che hanno determinato anche la differenza nella crescita di molte regioni del nostro paese. Il rione è un posto povero arretrato di quelli che, dopo la crescita del minacolo italiano, sembrano resistere solo nei film, come le riserve indiane dei Pelle Rossa, ma si tratta anche di un serbatoio ricco di energia potenziale, un punto di partenza dal quale l'ascensore sociale può solo salire. Le vie di questa ascesa sono poi terribilmente attuali, formazione, impegno, innovazione. Elena Greco studia e grazie agli studi riesce a lasciare il lione. Lila innova e con il design trasforma il mestiere del padre Ciabattino in un negozio di lusso. Enzo, che da fruttivendolo lavorava e non poteva studiare, di sera a tardetà riuscirà poi a programmare calcolatori IBM e avere una sua impresa. Non c'è lieto fine. Dopo un percorso ascendente, questo c'è l'inversione causata da una società chiusa delle relazioni, dei conflitti di interesse che soffoca l'energia vitale portando al declino. È una parte con le sue forze, ma il successo dopo la pubblicazione del libro è frutto dell'influenza della famiglia del marito. La maledizione del rione dipinge un paese classista dove chi nasce tondo non muore quadro. I figli dei ricchi si possono permettere battaglie ideali in nome degli operai che devono mantenere sempre più a fatica un sistema dove pochi vogliono produrre, tanti si impegnano a redistribuire e le nuove generazioni sono più povere delle precedenti. La libertà di iniziativa economica è la linfa vitale di qualsiasi progresso, anche politico e sociale. La storia ci insegna che quando viene a mancare, per l'ipertrofia della politica, può esserci solamente il declino. Per la Fondazione Luigi Einaudi avete ascoltato la FL al massimo. Arrivederci.